Il momento è un incrocio tra ragioni di politica interna, economiche e soprattutto di politica estera. Oggi la Meloni ha chiamato Zelensky e ha detto noi stiamo con voi, intanto l'Ucraina avanza a quanto pare, ricaccia le truppe russe di posizioni verso il precedente confine ucraino che sta succedendo di Battista? Allora, in primis per me è opportuno non essere più ipocriti e non definire più quel che avviene in Ucraina, una guerra Russia-Ucraina, ma una guerra Russia-Nato in Ucraina. La Nato ci mette le armi, ci mette le esercitazioni, l'intelligence, ci mette anche degli uomini sul campo, ci mette gli aeroporti, ci mette i satelliti, la Nato gestisce l'operazione. Da otto mesi in questo studio illustri politici, giornalisti, editorialisti sostenevano questa tesi, tra l'altro in netto contrasto con la Costituzione Repubblicana e con quel che pensa la maggior parte della pubblica opinione. Bisogna mandare più armi in Ucraina e bisogna aumentare i pacchetti, in aspirire i pacchetti delle sanzioni per costringere Putin a mettersi intorno a un tavolo, a sedersi intorno a un tavolo e a trattare. Oggi il Presidente, tra una telefonata e l'altra appunto alla Meloni, il Presidente dell'Ucraina Zelensky firma un decreto, immagino che lo abbia prima coordinato con gli americani, e nel decreto c'è scritto che non tratterà con la Russia fino a che ci sarà Putin. Cioè significa, mi perdoni il termine, sono otto mesi che alcuni politici raccontano delle cazzate. Ora sentiamo Sallusti su questo, però le chiedo di fermarsi sulla figura della Meloni. Sai, in una puntata del genere qualche mese fa, io avrei pensato che dalle parti del centrodestra qualcuno avrebbe sentito Di Battista dicendo, beh, guarda che però c'ha ragione, quantomeno Salvini, quantomeno sulla posizione da coordinare all'interno dell'Europa qualcuno avrebbe detto all'interno del centrodestra, beh, guarda che Di Battista non ha tanto torto, oggi c'è la telefonata della Meloni alla Zelensky. A me però non stupisce questo, perché come si ricorderà da settimane sostengo che la Meloni sia di fatto la politica più draghiana che c'è oggi in Italia. Io lo vorrei dire anche a coloro che l'hanno legittimamente votata, lei ha fatto una ottima campagna elettorale, ha preso i voti, è stata scaltra, è democratico il fatto che diventerà Presidente del Consiglio, quindi figuriamoci. Però tanti l'hanno votata pensando che sarebbe stata, che potrebbe diventare un politico di rottura, capace di cambiare le linee politiche di Draghi e Di Maio in politica estera, capace anche di dare una sorta di scossa all'Unione Europea che se ne dica oggi è ancora più divisa rispetto a ieri, invece oggi la Meloni per me è l'esempio del conformismo, probabilmente per il potere, strizza l'occhio al potere più importante di oggi, che non è più l'Unione Europea. Oggi chi vuole strizzare l'occhio al potere si definisce atlantista, chiama immediatamente Zelensky, sostiene che indeerà nuovi pacchetti di armi contro il volere della pubblica opinione, contro l'articolo 11 della Costituzione e si mette in scia sull'attenti portando avanti una, mi scusi Floris, politiche e una strategia che oggi è fallimentare per l'Italia, perché oggi possiamo concentrarci sulle manifestazioni in Russia, sulla fuga legittima e sacrosanta di cittadini russi che non vogliono andare al fronte, sulle sanzioni che fanno dei danni, ma oggi ci dovremmo concentrare sulle controsanzioni che fanno danni in Europa, sulle manifestazioni cittadine che non pagano più le bollette e non riescono in Italia, su un'Europa che è in recessione, la Germania, oggi le sanzioni stanno provocando l'inflazione in Russia, ma che ce ne frega? Oggi la Germania ha un tasso l'inflazione del 19%, vara 200 miliardi, mandando a carte 48 il patto di stabilità è tutto quello che ha detto per 20 anni, l'Europa è divisa e l'Italia è in crisi nera, dalla Meloni mi aspetto discontinuità, che invece si è messa in scia.